Il palo è ancora in salita, la traversa, il rompe Bonometro, presa ancora rete in apertura, tira Rummenigge, Lorieri arriva appena a deviare sul palo. Roma, Giannini, Agostini che guardate manda sulla traversa. Su punizione, Lorieri è battuto ma lo salva la traversa. Poi la gran calcio d'angolo e palla respinta dalla traversa su deviazione di Altobelli. Il primo gol lo sfiora al tredicesimo della ripresa con loro guardia granata. Al nono la legnata di Ciora Miccolat viene deviata in qualche... ...che precede di poco il primo gol di Serena. Alle due occasioni per i romanisti, la prima su colpo di testa di... ...al quindicesimo però Baggio prende la traversa. Il Genoa potrebbe raddoppiare se il palo non restringesse un colpo di fortuna. Prova più volte l'Ascoli ha colpito... ...di Maradona al trentanovesimo non avesse colpito un palo e se... ...quando Marocchi centra l'incrocio dei pali di Lorieri. Fase di conclusione ma la fortuna non lo aiuta molto. ...sa scossa la Stoicovic su punizione poco dopo. Questa volta Lorieri non c'entra affatto ma sulla strada di Lourdes spunta una traversa di troppe. Con il risultato, eccolo, di una terza traversa. Ha colpito due volte la stessa traversa. Voglia tanta come dà benaggine e sfortuna del resto. ...dolore a scolano. Dal dischetto sbaglia a soldà. ...senta eloquentemente ed il Milan si accorge di avere un altro che Donadoni colpisce il legno. Il pericolo di deconcentrare... ...data sul palo di Osio che ha consentito all'opportunità... ...occasione più clamorosa la traversa colpita di collo destro proprio da Dezzoni. Nel secondo tempo l'Ascoli non è praticamente esistito. Il Napoli ha... Oltre che per il palo che ha respinto la punizione di Reikardt... ...un gran tiro di Savicevic dalla lunga distanza e il pallone colpisce il... ...in maniera decisiva quindi non mi voglio prendere meriti particolari. ...e che fisico. Devo dire che l'Arab... ...formata dunque in una seduta d'allenamento in vista dei big match di mercoledì e domenica prossima. ...entrava solo il palo e non il gol dell'ex... ...e ancora da un inzai... ...manti a Lorieri ma è solo traversa. Nella ripresa Guerrini... Venturini lascia il segno sulla traversa... ...e il croato si scopre anche eccellente oppure non è premiata. Qui si salva il Lecce. Il palo colpito da Bisoli... ...duetto Bonaccina caccia... ...e ancora pronto il portiere... ...di sgroppo... ...poi la palla arriva a Carrera che colpisce il palo. Il Lecce... ...di Serena... ...ancora Serena... ...avanza il giocatore... ...il tiro... ...il palo di Serena... ...Ronadoni che al ventesimo coglie il palo. Paura e sfortuna. In avanti si sa la concorrenza è forte... ...ma quando siano giocatori quali Giorca F e Ronaldo... ...quattro gol... ...palo di Totti a conclusione di un perfetto contropiede... ...che trova solo la traversa ma ben appostato c'è un certo Abel Balbo... ...e la traversa a fare gli interessi di casa... ...per la disperazione dell'onnipresente cappione. Grazie a tutti.